Un tragico schianto lungo la statale Cisa in provincia di Parma non ha lasciato scampo ad un motociclista versigliese di 34 anni, morto nel pomeriggio di sabato. Stefano Palmerini, padre di due figli, originario del Cinquale ma da anni residente a Seravezza, stava percorrendo il tratto tra Berceto e Terenzio, in sella alla sua moto, quando all'improvviso, per dinamiche ancora tutte da chiarire, è stato sbalzato violentemente sull'asfalto per poi finire contro il guardrail. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. I soccorritori del 118, arrivati sul posto anche con l'elissoccorso che si è alzato in volo dall'ospedale maggiore di Parma, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Stefano era molto conosciuto in Versilia, come emerge dalle numerose testimonianze d'affetto affidate ai social in queste ore.